Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma al fondo resti sempre una bambina. Chiederci qualcosa, volete fare delle proposte? Beh insomma fatelo, scriveteci, siamo ben lieti comunque di rispondervi e di sentire un po' quelli che sono i vostri suggerimenti. Tutto questo vale anche per la musica, io non ve lo dico più, però se aveste la canzone del cuore, la canzone che mentre ci guardate vi farebbe piacere ascoltare, insomma siamo qui anche per quello, anche perché come sapete se no la scelta musicale rimane nostra e poi quello che arriva arriva. E allora va bene, andiamo avanti, abbiamo fatto una lunga mezz'ora di apertura parlando di tutto ciò che è il riscaldamento dato dalle stufe per le nostre case, sappiamo che stiamo insistendo e voi ci state riflettendo e ci fa piacere, ma adesso dobbiamo cambiare argomento. Come lo facciamo? Beh soddisfando quello che è uno dei piaceri della tavola e allora vi dico, già mangiare è una cosa bellissima, ma soprattutto quando si mangia e si accompagna del buon cibo con dell'ottimo vino, beh siamo tutti veramente felici. Allora parliamo a voi cari amanti del vino, sono lieta di dirvi che è ritornato in studio un ospite molto gradito, voglio dare il ben ritrovato a Gianpietro Poletti, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. E io lo so che tra i nostri telespettatori fanno il toto nome, il toto qualifica, ovvero vedono il volto e dicono, io mi ricordo è l'amministratore della cantina di villa. Uno amministratore. Uno degli. Uno degli. Uno degli amministratori, bravi, se avete indovinato, eh sì è proprio lui. Quindi ritorniamo un po' a muoverci in Valtellina. Dobbiamo andare in provincia di Sondrio idealmente, vero? Esatto, in provincia di Sondrio. Ripetiamo un pochino questa realtà della cantina di villa, insomma brevemente però per chi non ci avessi sentito. La villa è nata ormai 52 anni fa per volontà di 61 piccoli viticoltori che non riuscivano più a collocare le uve prodotte dai loro vigneti. Con un notevole sforzo hanno creato questa cooperativa che dopo 52 anni lavora ancora presente sul mercato. Eh beh, 52 anni comunque vuol dire che è stato messo tanto impegno, tanto sforzo, tanta passione. Impegno, sforzo e denaro, soprattutto denaro, con tanti sacrifici per i nostri soci. Ma la soddisfazione arriva ancora quotidianamente? Arriva ancora la soddisfazione tutti i giorni. La cantina di villa infatti da alcuni anni, ormai da 8-9 anni, ha iniziato a esportare anche in paesi europei e extraeuropei. Quali vigneti ha, insomma, il territorio di Sondilo? Noi stiamo vedendo alcune immagini, dunque che vini producete? Ci racconta un po' come siete organizzati? Sì, i vigneti in Valtellina iniziano praticamente la zona a denominazione di origine, inizia dal comune di Ardenno Masino e termina a Tirano. Questo per quanto riguarda le denominazioni DOC, rosso di Valtellina, quindi una DOC, e Valtellina superiore di OCG con le sottozone, con le 5 sottozone. I vigneti sono tutti terrazzati, come abbiamo potuto vedere dalle fotografie. Lì abbiamo visto una teleferica, un giorno di vendemmia, dove quel vigneto lì ha più di 10 terrazzi, quindi per rendere breve la strada della discesa a valle delle uve si utilizzano appunto queste teleferiche. Lei ha detto la parola magica, ovvero la vendemmia. E allora, la vendemmia 2012 si è conclusa? La vendemmia 2012 si è conclusa, noi abbiamo terminato nella giornata di sabato, quindi due giorni fa. Quest'anno è stato un anno un po' particolare, perché dopo tanti anni abbiamo raccolto le uve dopo la prima nevicata. È vero, è arrivata la neve allora. È arrivata la neve e infatti dopo due giorni siamo andati a vendemmiare. Ma io mi chiedo voi, insomma, del settore vinicolo, quando avete visto i fiocchi cadere, cosa avete detto? Caspita, qui si compromette qualcosa? La neve fa bene, fa male, crea preoccupazione? No, beh, una nevicata di per sé non preoccupa. Certamente se dopo la nevicata avesse continuato a piovere avrebbe compromesso il raccolto sicuramente. Ma in questo caso, dopo la nevicata c'è stato il freddo, quindi è andata bene così. Ah beh, allora... Poi è stata comunque sì un'emozione. Eh beh, ci credo, ci credo assolutamente. Quindi tutto è andato come doveva andare? Come doveva andare. Siete abbastanza soddisfatti? Siamo soddisfatti, la vendemmia nel complesso è stata una buona vendemmia. È un po' poco il prodotto, però pazienza. È poco, ma di qualità. Sì, è poco di qualità, però se assieme alla qualità c'è anche l'abbondanza, non fa male. Eh no, lo sappiamo. Beh, questo mi sembra comunque un momento di saggezza. Perché quando è poco è poco. Eh sì, è vero, lo sappiamo. Però io vedo che comunque anche oggi il nostro studio si è un po' attrezzato, perché lei ci ha portato, insomma, alcune bottiglie. Alcune bottiglie, certo. E noi vogliamo cogliere l'occasione, insomma, c'è qui lei. Vogliamo un po' capire che prelibatezze arrivano dalle vostre vendemmie in generale. Oggi che cosa ci ha portato di bello? Ma i classici vini della Valtellina, ovviamente, quelli che ho citato prima, un rosso di Valtellina, e poi uno sforzato, ovviamente, che è il clou dei vini valtellinesi, che è un passito secco. E poi abbiamo un grumello, un Valtellina superiore e un sassella. Queste sono alcune delle sottozone che ci sono in Valtellina. Il vitigno di tutti questi vini è il nebbiolo, perché in Valtellina si coltiva un monovitigno, con un 5-10% di altri vitigni autotoni, che sono la pignola, la rossola e la brugnola. E il territorio ha influito, insomma, comunque in questi 52 anni di storia della cantina di villa? Insomma, io credo che tutto il mondo della vinicoltura comunque sia in dialogo costante con il territorio nel quale produce. Non può non essere in dialogo con il territorio. Dobbiamo considerare che oggi il mercato è difficile, quindi abbiamo sempre più bisogno di approfondire la conoscenza con il nostro territorio per avere sempre dei vini di alta qualità. Lei ha parlato di esportazione, ovvero che da poco riuscite anche a portare questi prodotti al di fuori del territorio nazionale, diceva, giusto? Sì, l'azienda non era, diciamo, prima non si era mai strutturata per esportare al di là della Svizzera. Certo. Ecco, la Svizzera ovviamente è sempre stato un mercato importante per noi. Adesso invece abbiamo iniziato ad esportare in alcuni paesi europei ed extraeuropei. E qual è il vino tra quelli anche che ci ha portato, tra quelli che producete, che vede, insomma, crea maggiore riscontro all'estero? Ma diciamo che noi come azienda abbiamo puntato principalmente su due prodotti, che sono il rosso di Valtellina e lo sforzato. Perché questi due, nello specifico? Perché questi due, perché è dal rosso di Valtellina che nasce lo sforzato. Quindi vogliamo che il consumatore riesca a capire da un vino base come si può arrivare all'eccellenza. Ma noi parliamo sempre, quando lei ci viene a trovare in studio, insomma, anche di quello che è non solo il dialogo della produzione del vino con il territorio, che è, come lei ha sottolineato, importantissimo e necessario, ma anche del dialogo tra un buon vino e il cibo del territorio. Lo risottolineiamo? Sicuramente il vino valtellinese sicuramente acquisisce, acquista valore con il cibo valtellinese consumato all'interno della Valtellina. Il pizzocchero è un prodotto, diciamo, abbastanza grasso, perché ovviamente è condito con tanto burro e formaggio, quindi ha necessità di un vino che abbia dei buoni tannini e una buona acidità. Quindi lo abbiniamo con? Io lo abbinerei con un rosso di Valtellina che è un rosso di tutto pasto. Sai che stiamo facendo male a chi ci segue da casa? Eh, lo so. Eh, lo so, perché adesso arriva l'epoca del... Magari non hanno i pizzocchi e il Valtellino. Arriva, è l'ora di pranzo. Io mi sto facendo male anch'io perché ho già fame, peraltro, però noi andiamo avanti così. Facciamo questi abbinamenti. Invece ci sono anche tutti una serie di... No, non salumi, però io penso alla Bresaola Valtellinese. La Bresaola Valtellinese con cosa me la consiglia? La Bresaola Valtellinese personalmente la consiglio con un rosso di Valtellina perché è comunque sia carne fresca, non è una carne, diciamo, cucinata. Certo. E quindi da indicare su un prodotto anche abbastanza giovane. Formaggi? Formaggi, sui formaggi andiamo già con dei vini importanti. Vini importanti che sono i Valtellina superiore fino ad arrivare allo sforzato con formaggi saporiti, vecchi. Ci sono abbinamenti all'inverso che non abbiamo fatto? Perché io le ho citate un po' di cibi valtellinesi, però al contrario, per ogni bottiglia vuole lei abbinare un vino, una circostanza magari, dove goderne appieno? Beh, ci possiamo provare. Proviamoci, proviamoci Gian Pietro. Allora, riprendiamoli, li abbiamo abbinati già, quelli che non abbiamo abbinato al pizzocchero, alla bresaula e al formaggio. Cos'è rimasto fuori? Le carni. Ok. Sicuramente le carni, quindi gli altri vini, voglio dire un buon sassella, un buon grumello, un buon valgella sicuramente abbinati. E poi vorrei dire qualcosa di particolare sul Valgella, che è una sottozona quasi dimenticata, e invece riesce a darci questo territorio, riesce a darci dei prodotti veramente fantastici, perché il terreno più profondo rispetto agli altri territori riesce a gratificare questo prodotto con una buona acidità, una buona sapidità. E' un prodotto che va riscoperto e io invito tutti i turisti, quando vengono in Valtellina, a chiedere proprio il valgella, perché è un prodotto sicuramente alla pari, se non al di sopra degli altri. Eh, questo già è un consiglio, ha visto, io l'ho un po' pungolata, però ha visto che ci siamo arrivati. Quindi valgella come prodotto da forse riscoprire e riassaporare? Da riscoprire e assaporare con le carni, con una bella tagliata, magari non con una carne, diciamo uno stracotto per intenderci, però con gli arrosti e con le tagliate, con la carne alla braccia, secondo me è molto indicato. Abbiamo dimenticato qualcun altro? Abbiamo dimenticato ovviamente il salmì, che è un cibo particolare, magari di selvaggina, e qui io ci abbinerei anche un bello sforzato, un vino importante. Cosa dobbiamo fare? La prossima volta è dobbiamo degustare. Mettiamo la cucina. Eh sì, lo so che arriveremo lì. Signor Gianpietro, se lei ci sta, facciamo una piccola degustazione. Lontiere. E ci mettiamo qui e facciamo vedere bene come abbinare. Però abbiamo già detto molto, in realtà, e anche oggi io la ringrazio per la simpatia, insomma, per tutta la preparazione che porta, e i racconti che mette a disposizione, insomma, del salotto di Angoli e di tutte le persone che ci seguono. Grazie tante per essere stato nostro ospite. Grazie a voi e grazie e buon appetito a tutti i telespettatori. Eh sì, posso farlo, non l'ho fatto. Ricordo il vostro sito internet, l'avete visto comunque, però, se voleste maggiori informazioni, www.cantinadivilla.it. Stiamo vedendo l'home page e dunque lì ci sono tutti i contatti, sia per venirvi a trovare direttamente che per, insomma, capire dove trovare questi buonissimi vini. Certo, perché la cantina comunque sia, è sempre aperta dal lunedì al sabato e può sempre essere visitata, quindi chiunque vuole fermarsi, non ci sono problemi. Eh, se ce lo dice uno degli amministratori della cantina di Villa, Gian Pietro Poletti, dobbiamo fidarci. Grazie ancora, signor Poletti. Grazie a voi, grazie a tutti. E ci interrompiamo, è arrivato il momento del secondo, un momento musicale, eh, l'ho ripetuto, diciamo che è arrivato il momento della musica. Adesso ascoltiamo i call play con Paradise e poi siamo di nuovo in studio. E dopo aver ascoltato insieme i call play con Paradise, ci avviamo un po' alla chiusura della puntata, però lo sapete, non abbiamo finito certo. Io ho dato un'anticipazione e vi ho detto che avremmo ritrovato in studio un volto amico, molto, molto amico del salotto di Angoli e beh, finalmente una presenza femminile in studio. Posso dire di essere felice anche solo per questo, che oggi sono stata attorniata da tanti uomini. Io sono sempre contenta, però quando vedo una donna, insomma, è proprio il nostro salotto. Ben ritrovata ad Angela Bracuto. Ti ringrazio, buongiorno a tutti. E allora, dottoressa in tecnica audioprotesiche e biosonic, noi lo sappiamo, vediamo te, sappiamo che abbiamo ottimi consigli per la salute dell'udito. Io l'ho detto ai nostri telespettatori, noi facciamo insieme a te di settimana in settimana un po' un percorso e allora andiamo avanti in quello che ci siamo raccontati e questa volta voglio chiederti una cosa. Perché? Perché ho, insomma, sentito parlare di una caratteristica di molti apparecchi di cui tu solitamente ci parli, che però io non conosco e allora volevo chiederti delucidazioni. Ovvero, ho sentito parlare dello speech guard, che già è anche un po', insomma, non è una parola italiana. Tu dici solo la parola. Che cos'è? Che cos'è lo speech guard? È il più evoluto sistema di elaborazione della parola attualmente esistente. Quindi è una predisposizione dell'apparecchio che permette di dare un beneficio immediato alla comprensione del parlato, che come tu ben sai, come tutti i pazienti sanno, è il problema principale. perché per sentire i suoni, i rumori non si fa nessuna fatica, ma per comprendere il parlato in genere si fa molta fatica. E se c'è un apparecchio che può facilitare la comprensione, perché rielabora in modo diverso il segnale, sicuramente questo è un vantaggio. Ecco perché si chiama speech guard. Ah, eccoci, vedi, vedi, vedi che c'è sempre bisogno di chiedere delucidazione. C'è sempre qualcosa da imparare. Ma io allora faccio un passo oltre e ti dico, ma tutti gli apparecchi hanno lo speech guard? Purtroppo no. Perché purtroppo no? Perché chiaramente essendo un sistema di rielaborazione del segnale molto evoluto, è presente solo sugli apparecchi di alta fascia, quindi anche di un costo maggiore. E questa è la nota negativa. Negativa si fa per dire, perché poi quando investiamo in salute sono sempre alla fine soldi ben spesi. E' chiaro che un apparecchio che ha questa predisposizione è un apparecchio molto sofisticato, perché nel momento in cui cattura i vari suoni presenti nell'ambiente è in grado anche di fare, io amo dire, una scansione in modo tale che chi usa il computer sa di che cosa stiamo parlando. Quindi un'analisi attenta di tutto quello che l'apparecchio va ad incamerare e di conseguenza poi può andare ad estrapolare il segnale vocale e rielaborarlo nel modo più adeguato possibile. Tutto questo su apparecchi di vecchia generazione o che comunque non sono così sofisticati, chiaramente non è possibile. Quindi è sempre antipatico dire che gli apparecchi sono tutti uguali. Io molte volte sento dire, ma sì, un apparecchio vale l'altro. No, come un telefonino, come un qualunque dispositivo elettronico. Prendiamo il telefonino che è molto comodo da usare come esempio. Ci sono telefonini con i quali puoi fare pochissime cose, quindi chiamare, mandare un messaggio e basta. Altri che possono fare le foto, possono fare i filmati, possono mandare le mail. Ecco, io direi di fare lo stesso paragone. Come ci sono telefonini base, ci sono apparecchi base. Così come ci sono telefoni che fanno di tutto, ci sono apparecchi che fanno di tutto. Quelli che fanno di tutto fanno questo tipo di operazione sulla voce. Quindi, visto che hai tenuto il parallelismo, sai quando si dice poi scherzando, è il mio telefono, manca che fa il caffè, fa anche quello. Esatto, esatto. Però scherzando in realtà ci stiamo riferendo a delle abilità che gli ultimi ritrovati della tecnologia ci permettono di fare. Quindi noi, anche nelle ultime volte in cui ci siamo incontrati, abbiamo proprio sempre posto un po' l'accento e l'attenzione su come la tecnologia faccia parte di questi apparecchi di ultima generazione. E quindi stiamo parlando di questa fascia, per intenderci. Assolutamente sì. Ma c'è un riscontro, insomma, tu hai quotidianamente un rapporto proprio con i tuoi pazienti, quindi hai dei riscontri pratici di chi ha utilizzato, sta utilizzando degli apparecchi dove c'è in più anche questo speech guard, dunque questo dispositivo, questo aiuto in più. Sì, assolutamente sì. Non solo io ne ho un riscontro, ma l'azienda produttrice, che è sempre molto attenta, ha raccolto una serie di testimonianze in tutta Italia presso alcuni audioprotesisti. Quindi abbiamo in sostanza inviato quelle che sono le reazioni dei pazienti che hanno utilizzato questi apparecchi e l'azienda ha redatto questo bello puscoletto che io vi ho portato, perché oggi ve ne vorrei leggere alcune di queste testimonianze. E se non sbaglio, tira su, tira su, i benefici dello speech guard. Esatto. Ah beh, direi che meglio di così, insomma. I benefici dello speech guard, che sono naturalmente, come ti dicevo, presenti negli apparecchi di ultima generazione e soprattutto, sai, quelli piccolissimi che mi avevo portato tempo fa. Sia quelli che stanno dentro che quelli che stanno fuori. Allora ti dicevo, qui ci sono delle testimonianze raccolte dall'azienda. Io ve le leggerei proprio, perché chiaramente per la privacy non ci sono nomi e cognomi, ovvio. Però è il contenuto che ci interessa, un po' l'esperienza. Però è il contenuto e, per esempio, le sensazioni. Io vi posso dire, per esempio, che c'è una testimonianza che a me piace molto, che è di un commerciante di 65 anni alla prima esperienza con gli apparecchi acustici, che dice, in passato avevo provato altri apparecchi, ma non sono mai rimasto soddisfatto. E questo, ahimè, accomuna talvolta parecchi pazienti. La questione estetica per me è molto importante. Non voglio che gli altri, soprattutto al lavoro, si accorgano che ho l'apparecchio. E questo nuovo apparecchio non si vede per nulla. È veramente piccolo, è un bel gioiellino. E non è usato a caso. Non è usato a caso. Poi, da un punto di vista acustico, poi, il risultato è molto positivo. Sento bene anche la mia voce non ovattata, come durante le precedenti prove. Quindi, questo concetto che sentono bene la propria voce non ovattata... Perché succede a volte questo? Certo che succede, perché io chiaramente vado a occludere il condotto con l'apparecchietto e quindi ho una sorta di senso di ovattamento. Ma quelli che hanno questo dispositivo, questo benedetto speech guard, non lo avvertono, non lo avvertono. Anche questo utente cosa ha segnalato? Il discorso estetico. E ritorniamo. Queste sono testimonianze vere, eh? Perché poi sembra che io magari le racconti... No, no, io l'ho visto il librettino. Vi assicuro che non è uno scritto di Angela Bracuto fatto a mano. No, è ufficiale. È effettivamente un documento ufficiale. E lato estetico, ridiciamo due parole su questo, perché... Ridiciamolo sì, perché purtroppo tutti i giorni io mi devo scontrare con questo aspetto. Ricordatevi che adesso sono veramente molto piccoli, sia gli interni che gli esterni, per cui non si vedono. Approcciate la protesizzazione in modo sereno, perché è sempre il primo scoglio. Io non mi stancherò mai di dirlo, ma anche se lo dico, poi continua a succedere così. Purtroppo i luoghi comuni sono duri a morire per conto loro, già in realtà. Però noi insistiamo, perché bisogna farlo. Ma poi li abbiamo visti dal vivo. Cioè io mi ricordo li hai portati sulle tue mani, nel palmo, erano minuscoli. Addirittura si faceva fatica a vederli da questa distanza inseriti. Avevamo visto che proprio non compaiono. Senti questo, ex amministratore delegato di un importante multinazionale, peraltro straniero. La mia esigenza fondamentale era che l'apparecchio acustico non si vedesse. E iniziano tutti così. Non volevo che nemmeno mia moglie lo sapesse. Questi apparecchi sono stati la soluzione. L'apparecchio va dentro l'orecchio, non si vede. Alla fine sono stato io a rivelare a mia moglie che lo portavo, perché proprio non se ne era accorta. Inoltre, essendo straniero, ho necessità di sentire con chiarezza la voce delle persone con cui parlo. E questo apparecchio me lo ha reso possibile. Sento la voce in modo naturale. Questo è un altro concetto fondamentale, il sentire in modo assolutamente naturale. Perché a volte ti viene detto, io sento voci distorte, è questo che si può sentire, no? Non la sento in modo naturale, la sento un po' metallica, riprodotta come se stessero parlando all'interno di un microfono. Invece lo speech guard mi fa passare la voce, sia la mia che quella degli altri, in modo completamente naturale, come se non stessi utilizzando niente. Peccato che sia disponibile solo nell'alta fascia. Peccato lo dico perché, voglio dire, sarebbe fruibile maggiormente da tutti, però... Posso dire che stiamo guardando l'home page del tuo sito? Perché poi noi raccontiamo, insomma, collochiamo, diciamo tante cose, poi uno magari vuole effettivamente parlarne di persona. Allora, www.biosonic.net, lì c'è l'indirizzo, il numero di telefono. Quindi una chiamata non costa mai niente poi, eh? Assolutamente, ma anche un incontro, tranquillamente. È vero, è vero. Poi un altro caso, 66 anni, direttore di banca, in pensione. Sono sempre stato molto contrario all'uso degli apparecchi acustici in generale e anche questa è una cosa che quasi tutti, ma io se posso evito. Non volevo che la gente si accorgesse del mio difetto, già questo chiamarlo difetto, però guarda che ricorrente. Alcuni amici che utilizzavano già gli apparecchi acustici mi demoralizzavano dicendomi che spesso fischiavano, perciò era meglio lasciar perdere. Anche questo a me capita molto spesso di sentir dire, ma mi hanno detto che poi... Ci si fida di più di quello che si sente nelle chiacchiere un po' da bar, mettiamola così? Assolutamente sì, assolutamente sì. Dicevano poi che un apparecchio vale l'altro, invece questi nuovi apparecchi, allora in Tigre in particolare, ha praticamente realizzato in un solo istante tutti i miei desideri. La gente non li vede, ma io sento la gente. Io glielo regalerei l'apparecchio a uno che dice così. L'effetto del fischio non so neppure cosa sia, devo dirlo proprio ai miei amici. Oggi ho ancora più piacere ad intrattenermi in conversazioni con amici e conoscenti perché comprendo tutto con estrema chiarezza e naturalezza. Angela, credo che forse sia il modo migliore per chiudere questo incontro, un po' perché abbiamo perso... Cioè abbiamo finito il tempo, proprio per dirla così. Non dire, è perso il tempo. No, no, abbiamo perso la cognizione, stavo per dire, poi ho detto è finito il tempo in realtà. Però io direi, ci ritroveremo. Ce ne sono moltissime di altre, perché vedo che stai sfogliando, sfogliando, sfogliando. Magari ritorniamo anche a leggere qualche testimonianza, è importante, vero? Assolutamente sì, perché è vera, soprattutto. E allora www.biosonic.net, Angela Bracuto, dottoressa in tecnica audioprotesica e biosonica, è lì, vi può aspettare, parlare, insomma, è lì che è pronta per voi, per, insomma, fare un confronto, per capire un po' le esigenze, per magari dipanare dei dubbi che ruotano sempre troppo intorno all'argomento, vero? Esattamente, grazie. Grazie per essere stata con noi, spero di ritrovarti presto. A voi, grazie, buona giornata. E allora, anch'io mi associo al Buona Giornata di Angela Bracuto, perché sì, dobbiamo salutarci. È arrivata l'una, io vi auguro buon appetito, perché è proprio imminente l'appuntamento con il pranzo, vi auguro un ottimo pomeriggio, una bellissima serata e vi dico, come sempre, accendete il televisore domani se vi fa piacere, alle ore 12 in diretta, io sarò qui ad aspettarvi, sarò lieta se ci seguirete in tanti. Allora, buona giornata a tutti voi, grazie.